Buongiorno, siamo pronti per la prima video-lezione di Fisica. La lezione riguarda l'equilibrio dei punti materiali. E vorrei prima di iniziare con alcuni concetti nuovi, col richiamare quanto abbiamo detto nell'ultima lezione dal vivo. Innanzitutto abbiamo stabilito la differenza tra corpi estesi e corpi puntiformi, i cosiddetti punti materiali, e tra i corpi estesi abbiamo distinto quella particolare categoria che sono i corpi rigidi. Ora, la differenza tra corpi estesi e puntiformi non è assoluta, cioè non è che un corpo è puntiforme, diciamo, a prescindere dal problema o dal contesto in cui si trova, è così per i corpi estesi. Il corpo può essere considerato puntiforme quando noi trascuriamo le rotazioni intorno a propri assi e gli spostamenti che questo corpo presenta sono piccoli, sono grandi rispetto alle dimensioni del corpo stesso. Quindi un corpo può essere puntiforme o esteso a seconda del problema che stiamo affrontando. La Terra, certamente, non è un corpo puntiforme se studiamo le rotazioni intorno all'asse di rotazione terrestre, ma in certi problemi può essere ritenuto puntiforme nel suo modo di rivoluzione intorno al Sole. E viceversa, anche un oggetto molto piccolo, come per esempio una molecola, potrebbe dover essere considerato un corpo esteso a seconda del problema che stiamo affrontando. I corpi estesi, poi ricorderete, si differenziano in corpi deformabili e corpi rigidi, però torneremo sui corpi estesi tra un po' nelle prossime lezioni. Per quanto riguarda i corpi puntiformi, noi iniziamo lo studio della statica, cioè le condizioni per l'equilibrio. In un secondo tempo poi affronteremo problemi legati al movimento. L'equilibrio si distingue in equilibrio statico ed equilibrio dinamico. Attenzione a questo concetto, perché sul libro, come anche su altri libri e su molti siti internet, la definizione di equilibrio dinamico non è quella che è ritenuta più corretta. Attenzione al punto perché c'è una differenza tra quello che vi dirò io adesso e quello che trovate sul libro di testo. Allora, mentre l'equilibrio statico riguarda corpi che sono o fermi, o in moto rettilineo uniforme, cioè viaggiano a velocità costante, l'equilibrio dinamico invece riguarda corpi che sono accelerati. Sul libro invece si dice che il corpo è in equilibrio statico quando è fermo e in equilibrio dinamico quando viaggia di moto rettilineo uniforme. Il che è sbagliato anche perché il moto rettilineo uniforme è tale soltanto per il sistema di riferimento che scegliamo, cioè se io mi muovo alla stessa velocità del corpo, il corpo è fermo, quindi in realtà non c'è una differenza sostanziale tra un corpo fermo e un corpo che viaggia a velocità costante. Tenete presente questa differenza perché vi ho detto che è facilissimo trovare la definizione che vi dà il vostro libro di testo. Abbiamo già visto nell'ultima lezione che la condizione perché un corpo puntiforme sia in equilibrio è molto semplice, e cioè la risultante di tutte le forze agenti, quella che chiameremo R, deve essere uguale a zero. Naturalmente è una risultante di forze, quindi è una grandezza vettoriale che va calcolata con i metodi dell'algebra vettoriale. Tra le forze che agiscono sui corpi, puntiformi o estesi che siano, molto importanti sono le forze o reazioni vincolari, cioè quelle forze che vengono esercitate dai vincoli nel momento in cui impediscono alcune libertà di movimento ai corpi. Per esempio un corpo appoggiato sul tavolo ha come vincolo il tavolo che impedisce la caduta verso il basso. I vincoli, come vi dicevo, per esercitare la loro azione devono applicare delle forze ai corpi, e queste forze vengono dette forze o reazioni vincolari. Spesso i problemi di statica hanno proprio l'obiettivo di calcolare le forze vincolari, le reazioni vincolari, sfruttando la condizione di equilibrio R uguale a zero. Questa condizione di equilibrio R uguale a zero, essendo vettoriale, molto spesso viene tradotta in due equazioni algebriche che si ottengono proiettando le forze sugli assi X e Y di un sistema di riferimento. Cioè, se io ho, per esempio, su un punto materiale, tre forze che agiscono, proiettando queste forze sull'asse X e sull'asse Y, questa forza ha queste due componenti, chiamiamola F1, F1X, F1Y, questa sia la F2 e questa è la F2X e questa è la F2Y e così per questa, F3X e F3Y, abbiamo la possibilità di scrivere che la somma di tutte le componenti X deve essere uguale a zero e la somma di tutte le componenti Y deve essere uguale a zero. Le componenti X saranno positive se la freccia punta nella stessa direzione dell'asse X, negative nel caso contrario, quindi queste negative e queste due sono positive. E così per l'asse Y. In questa maniera, non andiamo più a fare un disegno con i vettori e con tutte le complicazioni legate agli angoli, ma semplicemente abbiamo due equazioni algebriche perché abbiamo semplicemente delle componenti che agiscono su una stessa retta e che avranno semplicemente il segno più o il segno meno a seconda dei casi. Questo procedimento sarà un procedimento usuale quando parleremo di statica. Non ritorno sul problema della statica dei corpi appoggiati su un piano orizzontale perché l'abbiamo già vista la volta scorsa e sul libro è analizzata molto in dettaglio. Vi ricordo solo che sul libro si comincia con l'esaminare il caso semplice di un corpo semplicemente appoggiato su un piano e soggetto solo alla forza peso e poi si esamina invece il caso più complicato di un corpo che sia soggetto oltre che alla forza peso a delle altre forze applicate dall'esterno e quindi si studiano le condizioni di equilibrio. Invece adesso io vorrei soffermarmi su una situazione un pochino più complicata che è quella del piano inclinato.